Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita All'indomani del plebiscito del 21 ottobre 1860 che vede Napoli entrare a far parte dell'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale nonostante per la città non sia iniziata la tanto vagheggiata era di felicità sociale ed economica la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vedono fiorire in città un'intensa vita culturale con i suoi oltre 450.000 abitanti Napoli è la città più popolosa della nuova nazione a descriverla bene è il concittadino Rocco de Zerbi che nel saggio sulla miseria di Napoli ne suddivide la popolazione fra 3.000 uomini attivi 7.000 scimmie mondane e 450.000 animali che non leggono, non vanno a teatro, non si interessano di politica e hanno addirittura una lingua diversa da quella dell'élite pur in presenza di tali differenze ciò che unisce ancora il popolo con la borghesia è a canzone a Napoli sembra che tutti siano diventati poeti dai giornalisti ai garzoni di bottega musicisti ed editori, anche qui di qualunque estrazione continuano a raccogliere, trascrivere, arrangiare, reinventare pubblicare e soprattutto cantare le canzoni popolari nel 1864 arriva a Napoli in pianta stabile anche la più importante casa editrice italiana la ricordi del capostipite Tito I che acquista la ditta dei fratelli Clausetti ed entra di diritto in una vivace concorrenza con la casa editrice Teodoro Cottrau che già pubblica l'Eco del Vesuvio una serie di fascicoli dedicati alle diverse località del Golfo che arriva a raggruppare 100 canzoni di vari autori per i tipi della Ricordi escono invece Ricordo di Napoli un fascicolo di melodie popolari ma soprattutto i tre volumi dell'Eco di Napoli notevole raccolta di ben 150 canzoni popolari l'analisi di queste raccolte da parte dello storico della canzone napoletana Sebastiano Di Massa evidenzia una serie di influenze rurali sulla produzione cittadina nonché echi delle villanelle cinquecentesche e seicentesche i nuovi canzonieri inoltre utilizzano un particolare elemento quello delle voci e delle grida dei venditori ambulanti ad ulteriore dimostrazione dell'influenza popolare della nuova canzone napoletana fra i nuovi canzonieri c'è il giornalista e poeta Salvatore Di Giacomo nato a Napoli nel 1860 che giunge alla canzone quasi per caso o meglio in conseguenza di una rivalità quella tra il vecchio Martino Caffiero direttore del Corriere del Mattino e il collega Giuseppe Turco fondatore del giornale satirico romano Capitan Fracassa durante l'estate del 1880 Turco, che vive a Roma va a fare la cura delle acque a Castellammare di Stabbia e qui vi incontra Luigi Denza illustre autore di romanze che stanno furoreggiando in tutta Europa per divertire i villeggianti Turco e Denza scrivono una canzone per celebrare la neonata funicolare che da pugliano si inerpica sulle pendici del Vesuvio per il titolo scelgono Funiculi Funiculà e un gioco compositivo diventa il primo best seller internazionale della canzone partenopea con un milione di copie vendute in tutto il mondo edite dalla Ricordi a Caffiero tutto questo non va giù è un bel pomeriggio di due anni dopo avvicina Mario Costa giovane musicista di Belle Speranze a cui propone i versi del suo giovane redattore di Giacomo al Costa i versi piacciono e con la dolce Nanny è inizio non solo una fruttuosa collaborazione ma anche l'era trionfale della canzone d'arte del 1885 sono la dedicata Era di Maggio e soprattutto Mare Chiare la più celebre delle sue canzoni in realtà a Mare Chiaro di Giacomo non c'è mai stato ma quella finestra verso il mare dalla quale il poeta immagina che si affaccia una bella ragazza di nome Carolina in realtà pare esistere la realtà si adegua alla fantasia e il deposito di una targa ne suggella definitivamente la veridicità Mare Chiare in realtà non è musicata dal Costa ma da Francesco Paolo Tosti che pare si fosse innamorato di quei versi Il sodalizio di Giacomo Costa prosegue invece nel 1888 con L'Ariulà e nel 1892 con Catarì altre celeberrime canzoni Il Costa collabora anche con un altro poeta Ferdinando Russo per il quale musica scettate nel 1887 Accanto a poeti e musicisti colti ne emergono anche di letterati come Diodato del Gazio e Gennaro Ottaviano che si contendono nel 1893 la paternità di Omar Inariello o come Vincenzo Russo di Mestiere Guantaio che lavora a giornata e la sera fa la maschera a teatro Qui forse incontra il mandolinista Edoardo di Capua già autore di O Sole Mio che mette in musica i suoi versi di Maria Marie del 1899 It Burria Vasà e Torna Maggio entrambe dell'inizio del nuovo secolo Questa musica ha accenti sereni addirittura festosi che profumano di sole, di mare e di fiori di quel mese di maggio che sembra esserne lo spunto preferito Poesia e folclore si fondono insieme per restituire i colori e i profumi della tradizione di una Napoli di fine Ottocento Se questo secondo capitolo della storia della canzone italiana e napoletana vi è piaciuto potete lasciarmi un commento un like o iscrivervi al canale ricordandovi di attivare la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione dei nuovi capitoli di questa storia Al prossimo episodio Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita